Ora simulerò un inceppamento da ADF, questo è un inceppamento che viene da ADF, la macchina segnala sia a display che fisicamente con delle spie LED la presenza della carta inceppata. Tutto ciò che è verde si può toccare per rimuovere l'inceppamento. A questo punto richiudo il coperchio dopo aver liberato la carta e la macchina è tornata funzionante. Invece subito ora l'inceppamento nel corpo macchina. Ok, seguo le istruzioni a display della macchina per cui apro il finitore. Rimuovo tutta la carta che trovo nei vari passaggi. Grazie. 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 Grazie.